Amici del soft libero open source, benvenuti o bentornati in questa 123esima puntata del podcast di Marcos Box. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box, come sempre a commentare con voi le principali notizie dal mondo del soft libero open source della settimana appena trascorsa. E questa volta sono stato quasi presciso, è stata quasi una settimana dalla precedente puntata, visto? Sto migliorando, sto cercando di mantenere le promesse per vostra somma gioia dei 15-20 miei affezionati lettori, anzi ascoltatori fissi. Iniziamo la puntata. Apriamo questa puntata parlando di PopS e ve lo dico fin da subito, questa puntata sarà molto incentrata su PopS perché ho pubblicato una serie di articoli al riguardo. Perché? Perché c'è stato il rilascio innanzitutto della nuova versione di PopS, PopS 22.04 LTS. E come vi fa già intuire il nome, PopS è una distribuzione basata su Ubuntu e questa nuova versione di PopS è basata sull'ultima LTS di casa Canonical. Per poche persone qui in ascolto che non conoscono PopS, che l'hanno sentita nominare per la prima volta in vita loro in questa puntata del podcast, Questa distribuzione è un derivata, un fork di Ubuntu realizzato da System76, che è un produttore statunitense di computer 100% Linux compatibili. Segue i rilasci di Ubuntu, sia quelli semestrali che quelli di LTS, e può essere installata da chiunque. Qua inizialmente è stata appunto pensata per equipaggiare i computer venduti da System76, però viene rilasciata regolarmente ed è scaricabile da chiunque lo desideri. Le differenze principali rispetto a Ubuntu 22.04 LTS sono principalmente tre. La prima riguarda l'interfaccia grafica. Su PopS troviamo Cosmic, che è un'interfaccia utente completamente personalizzata, basata su Gloom Shell, con una serie di estensioni pensate per migliorare l'usabilità sia da mouse che da tastiera. La seconda differenza riguarda la scelta di PopS di utilizzare il Flat Pack, con i repositori Flat Tab, al posto di Snap, e questo si traduce anche in una maggiore velocità di avvio della distro e delle applicazioni installate in tale formato. Quindi non abbiamo, come su Ubuntu, il pachidermico Firefox. Poi c'è da sottolineare che gli sviluppatori di PopOS hanno deciso di mantenere aggiornato Firefox tradizionale, quindi da repository. Quindi non temete per eventuali problemi di lentezza, così come avete avuto modo di vedere su Ubuntu. L'altra novità, poi, infine, l'altra differenza rispetto a Ubuntu 22.04, riguarda un kernel Linux più aggiornato, in quanto su PopOS abbiamo attualmente i kernel Linux 5.16.19, kernel che poi verrà regolarmente aggiornato durante il ciclo vitale della distro. Le novità principali della 22.04 di PopOS riguardano lo strumento degli aggiornamenti automatici, che possono essere programmati per essere effettuati giornalmente, settimanalmente o mensilmente. Per chi ha un computer venduto da System76 abbiamo all'interno delle impostazioni la possibilità di avere accesso al supporto professionale che è per la risoluzione di eventuali problemi sui vostri computer. Abbiamo poi, sempre all'interno delle impostazioni, un link, un rimando agli articoli della documentazione, sia per PopOS che per l'audio di System76, quindi della pagina del supporto. Poi abbiamo qualche altra opzione, come per esempio la chat di supporto della community. Troviamo anche su questa nuova versione di PopOS due temi, il tema chiaro e il tema scuro. Non sono state fatte, da quel che vedo, delle modifiche sostanziali, mi sembrano pressoché uguali. Quindi ereditano anche i vecchi bug che si hanno su alcune applicazioni. Ad esempio, uno su tutti mi viene da dire il bug del tema chiaro con il tema GTK su Microsoft Edge, che su Ubuntu è stato sistemato, ma su questa versione, su PopOS, no. Le prestazioni poi di PopOS 22.04 sono migliorate grazie a un nuovo tool di cui ve ne avevo parlato qualche mese fa sulle pagine di Marcosbox, anche tramite il podcast, perché System76 ha introdotto uno strumento chiamato System76 Scheduler, che va a ottimizzare le prestazioni indirizzando le risorse a quelle finestre in primo piano, quelle finestre a fuoco. Quindi se stiamo facendo qualcosa di intenso, come ad esempio il gaming a tutto schermo, otterremo una esperienza molto più fluida, proprio grazie a questo strumento, System76 Scheduler, che speriamo venga backportato anche da altre parti. Poi sono state fatte delle modifiche a Poposhop, con miglioramenti del codice back-end per operazioni più reattive, e poi infine troviamo miglioramenti derivanti dall'ultima versione di Gnome. Per tutti quanti poi gli amanti dell'audio abbiamo il passaggio a PipeWire per l'eraborazione audio. Per maggiori informazioni su questa nuova versione di PopOS, vi invito a leggere poi l'articolo dedicato sulle pagine di Marcosbox, dove ho messo il changelog completo. Prima vi avevo detto che questa puntata sarà dedicata principalmente a PopOS, perché c'è un'altra anche notizia molto interessante riguardante PopOS. Ve ne avevo parlato diverso tempo fa, ovvero della intenzione del team di System76 di andare a realizzare un sostituto di Cosmic scritto da zero in Rust, sfruttando Rust e le GTK4. Quindi non più un desktop environment basato su Gnome, ma un desktop environment proprietario con tecnologie comunque diverse, ma comunque basate anche sempre sulle GTK. Vi avevo parlato di questo desktop environment che è in sviluppo, che rispecchierà l'user experience che abbiamo già visto su Cosmic, sulle ultime versioni di PopOS. E quando verrà rilasciata questa versione, ce lo fa sapere direttamente PopOS tramite il suo canale Twitter, questo nuovo desktop environment, questa nuova versione del desktop environment di PopOS, verrà la luce, vedrà la luce in versione beta quest'estate, in versione comprita per il prossimo anno. Quindi lo sviluppo è attivo, lo sviluppo è anche a buon punto, perché ormai restate alle porte, e non vedo l'ora di mettere le mani per vedere quali sono le novità di questo desktop environment, se magari hanno aggiunto qualche cosina di nuovo rispetto a quello che siamo abituati su Cosmic, ma soprattutto sono curioso di vedere le prestazioni di questo nuovo desktop environment, e vedere se ne vale veramente la pena, e se sono, come si dice, fioriranno, se sono cachi, avete capito già. E concludiamo questo spezzone di puntata dedicato a PopOS, con la guida post installazione su PopOS 22.04 LTS, che ho pubblicato sulle pagine di Marcosbox. Mi è stata chiesta a gran voce una guida su PopOS, e ho deciso di accontentarvi. Ed è anche uno strumento utile non solo per chi è neofita del mondo Linux e si vuole approcciare per prima volta a PopOS, ma è anche uno strumento utile per avere anche un rapido confronto per riuscire a capire quali sono le principali differenze rispetto a Ubuntu. Quindi andategli a dare un'occhiata, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se voi volete aggiungere qualche cosa a questa guida per arricchirla e quant'altro. Così come rinnovo quindi l'appello che ho già fatto per la guida post installazione per PopOS 22.04. Quindi andateci giù di sotto con i commenti, con i consigli, con le aggiunte, con le modifiche che suggerite. Seconda parte di questa puntata del podcast dedicata alle notizie dal mondo di Ubuntu, perché anche riguardante Ubuntu ci sono stati fatti diversi articoli questa settimana. Il primo riguarda il nome in codice della prossima regrese semestrale di Ubuntu che si chiamerà Ubuntu Kinetic Kudo. Ubuntu 22.10 Kinetic Kudo molto probabilmente verrà rilasciato con i kernel Linux 5.19 e avrà Gnome 43. Per adesso non ci sono altre novità, non ci sono altre notizie riguardanti lo sviluppo della distribuzione. Forse verrà aggiunto anche il nuovo installer grafico di cui vi avevo parlato qualche mese fa, quello scritto in Flutter, ma per adesso appunto non ci sono altre indiscrezioni. per l'angolo della scienza dei documentari vi ho postato anche il link al Kudo, che è l'animale totem di questa nuova versione di Ubuntu e andatela a legge così diventate anche più acculturati. Che poi è anche figo, se non c'è una foto che ho postato l'immagine in copertina, che è un bellissimo animale. Per tutti quanti i fan della rubrica hands-on, Luca ha pubblicato un nuovo articolo dedicato questa volta a Ubuntu 22.04 LTS. Nel suo articolo, nel suo hands-on, Luca va a fare una disamina delle novità che sono presenti su questa nuova versione di Ubuntu e va a fare anche le pucci andando a vedere secondo lui che cosa manca e che cosa dovrebbe essere imprimentato. Andatevi a leggere che è davvero interessante e lasciate un commento. Allora, lo so che moltissimi di voi all'ascolto odiano, detestano il formato Snap. Quando sentono parlare di Snap dicono Pussa via, vada e retro, satana. Non sei degno di essere su Linux. Però il formato Snap ha tantissimi vantaggi ed è un formato che sta attirando anche diversi sviluppatori di terze parti a portare finalmente le proprie applicazioni anche nel mondo Linux. E io mi auspico che questo formato prenda piede e che gli sviluppatori di terze parti possano iniziare a utilizzare sempre più questo formato per rilasciare le proprie applicazioni e levarci finalmente tutti quanti i vari problemi di dipendenze o problemi nell'installazione su altri sistemi che non sia per esempio il pacchetto deb soltanto su Ubuntu e quant'altro. Uno su tutti io mi vende sempre da pensare il solito esempio che faccio sempre è il programma per la firma remota che utilizzo io per la firma digitale su Windows che è disponibile anche per Linux di che cosigni però è un programma che ad ogni release di Ubuntu va a sbagliarsi perché manca qualche dipendenza è successo anche adesso con Ubuntu 22.04 adesso sto indagando per riuscire a capire come mai va in crash quando si avvia poi succede il solito problema che magari tu vuoi installare su una distribuzione che non è Ubuntu quindi non una distribuzione che è mainstream ma che vuoi installare su Arch e inizia a provere problemi per la costruzione del pacchetto ci sono passato con le vecchie ossioni adesso fortunatamente un altro utente è riuscito a metterci mano e a sistemare riuscire a installare anche su altre distribuzioni però ci sono sempre cose che devi fare affidandoti a sviluppatori cioè a utenti terzi che devono andare a metterci la manina o magari tu stesso per poterlo installare inizialmente su una nuova versione di Ubuntu devi stare lì andare a vedere che cosa non va che cosa perché ti ho generato il problema un'applicazione come quella in formato snap potrebbe essere universale per qualsiasi distribuzione Linux e sarebbe la scelta opportuna tutto questo preambolo per dirvi cosa? per dirvi che adesso c'è un c'è un pacchetto snap di client di Steam avete capito bene vi spiego brevemente che cosa sta succedendo in casa Canonical e perché hanno deciso di pubblicare un pacchetto snap di Steam Canonical sta puntando tutto per fornire ai videogiocatori la migliore esperienza di gioco possibile su Ubuntu e per questo motivo ha iniziato a creare un team di sviluppatori che si occuperanno di questo aspetto come parte di questi sforzi il primo passo è quello di semplificare il processo di configurazione dell'ambiente di gioco quindi senza la necessità di andare a aggiungere il PPA per ottenere pacchetti o kernel all'avanguardia e dato che Steam è la piattaforma numero uno per i videogiocatori su PC si è scelto di partire inizialmente proprio dal client di Steam per questo motivo è stata pubblicata un pacchetto in formato snap di Steam curato da Canonical sullo Snap Store attualmente è etichettato come accesso anticipato quindi c'è da aspettarsi eventuali bug o mancanze di funzionalità gli sviluppatori stanno già esaminando ulteriori miglioramenti futuri per le esperienze del gioco come fornire modi semplici per ottenere componenti più innovativi come i driver mesa i kernel Linux i driver proprietari ancora più recenti e quant'altro gli snap offrono tre vantaggi chiave rispetto rievanti rispetto rispetto al pacchetto classico per gli utenti Steam in primo luogo raggruppano le dipendenze ciò significa che i giocatori non dovranno più andare a caccia di documentazione non aggiornata aggiungere PPA per drive a mese o libreria 32 bit per far funzionare i loro giochi e quant'altro quindi significa anche che lo snap di Steam verrà eseguito su qualsiasi distribuzione che supporti i snap senza problemi in secondo luogo il formato snap è facile da aggiornare riceveremo sempre l'ultima versione di Steam che porta con sé l'ultima versione di Proton oltre agli aggiornamenti per eventuali dipendenze in bundle e infine gli snap sono in sandbox ciò significa che i giochi che stiamo utilizzando non hanno accesso al resto del nostro sistema mettendoci tra virgolette al sicuro quindi questi sono vantaggi generali del formato snap che in questo caso sono davvero utili per i client di Steam speriamo che Canonical riesca a stringere un rapporto di collaborazione anche con Valve in modo tale da avere anche il suo supporto per la realizzazione del pacchetto in formato snap del client di Steam se volete provarla su Marcosbox trovate il link che vi rimanda alla pagina dello snap store per poter testare il client di Steam attualmente in beta in formato snap fatemi sapere che cosa ne pensate e magari lasciate un commento sotto le pagine di Marcosbox prima vi ho parlato dei problemi derivanti dalle nuove versioni di Ubuntu che ci sono sempre ogni volta che viene rilasciata una nuova versione di Ubuntu e per tal motivo ho deciso di pubblicare su Marcosbox due articoli il primo è un semplice consiglio che riguarda il modo per impostare GDB come applicazione predefinita per il file deb su Ubuntu 22.04 perché tra i problemi di gioventù della 22.04 di Ubuntu troviamo il fatto che non è stato associato come applicazione predefinita Ubuntu store per poter installare i pacchetti in formato deb perché di default su Ubuntu 22.04 se noi cerchiamo di installare un'applicazione un pacchetto in formato deb ci si apre il gestore di archivi quindi non possiamo installarlo non ci si apre quindi lo store di Ubuntu e per questo motivo ho deciso di fare questa piccola guida postata sotto forma di video nel quale vi spiego come andare a modificare l'associazione predefinita dei file deb e nella fattispecie vi spiego come impostare GDB come predefinito per il file deb per l'installazione predefinita dei file deb perché è la soluzione migliore a mio avviso Ubuntu store come cavolo si chiama quindi lo store di Ubuntu si chiama Ubuntu software io ogni tanto mi scorreggio il cervello mi dimentico le parole spesso da problemi con alcuni pacchetti deb quindi impostate GDB se avete la necessità di installare i pacchetti deb in formato grafico e non vi dipendirete e sulle pagine di Marcosbox trovate la guida su come fare ma sulle pagine di Marcosbox ho pubblicato anche un'altra guida che vi spiega come risolvere un altro errore di gioventù un altro problema di gioventù che si verifica su Ubuntu 22.04 LTS e si verifica in questo caso con l'esecuzione di AnyDesk AnyDesk lo conoscete di sicuro è un software per il controllo remoto che io utilizzo abitualmente per fare assistenza oltre che per accedere ad alcune postazioni lavorative quella è la postazione dell'ufficio in particolare quando sono da casa e purtroppo devo lavorare anche da casa per fare certe cose ecco una rottura di scato comunque che succede succede su questa versione di Ubuntu Ubuntu 22.04 se installate AnyDesk l'installazione va a buon punto le dipendenze che vengono segnalate per AnyDesk vengono installate correttamente però l'applicazione non servia andando poi a gangiare l'applicazione mi sono reso da terminare mi sono reso conto quale era il problema ed è un problema riguardante una libreria condivisa LibPango X che non è presente all'interno dei repository di Ubuntu 22.04 e che quindi per via dell'assenza di questa libreria non è possibile eseguire AnyDesk come ho risolto il problema nel modo più semplice e subito possibile mi sono andato a scaricare una versione di una release precedente di Ubuntu dai repository di Ubuntu me la sono andata installare manualmente e adesso AnyDesk parte spero di risolvere a breve anche il problema che vi avevo accennato prima dell'esecuzione di Gosign il software per la firma per la firma remonta la firma digitale che utilizzo perché anche in questo caso non parte però in questo caso non mi dà errori di dipendenze mancate ma mi dà un crash dovuto al compositor io non ho capito ancora bene il motivo è una tristezza che mi vedo ogni volta che c'è un passaggio di versione di Ubuntu che passa in diverso tempo per riuscire a sistemare tutti questi problemi e che mi rendono poi mi azzoppano nel workflow minchia che nervoso ma perché non rilasciate tutto in formato snap maledetti maledetti e con questa ultima notizia si conclude qui questa 123esima puntata del podcast di Marcos Box come sempre vi ricordo che potete seguirmi attraverso i principali social quindi trovate la mia pagina facebook trovate il mio profilo twitter ufficiale a livello c'è anche il profilo twitter marcosbox.org che è un profilo che utilizzo praticamente pochissimo perché sto aspettando che si liberi il Marcos Box senza org maledetto tu che ti sei registrato nel lontano 1990 quando cacchio è con Marcos Box se lo becca a quel tizio io lo prendo lo picchio con un grosso randello mi trovate sul canale youtube nel quale ogni tanto pubblico video guide consigli e quant'altro ma trovate anche sul canale youtube trovate anche le riproposizioni del podcast per tutti quegli utenti che preferiscono guardare o meglio ascoltare il podcast tramite youtube mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting mi trovate su spotify mi trovate su amazon music apple music mi trovate su google podcast sui vari sui vari servizi di podcasting trovate anche la skin ufficiale per amazon alexa quindi non partire non t'azzardare non ti ho chiesto niente mi trovate sulla pagina link se mi volete aggiungere e infine vi ricordo che potete seguirmi tramite telegram c'è il canale principale che potete utilizzare a modi feed per le notizie che posto su marcosbox c'è la community telegram di marcosbox nella quale potete parlare anche di altre cose quindi non necessariamente di linux alla quale vi invito ad iscrivervi numerosi e infine c'è il canale dedicato alle offerte su amazon quindi se acquistate su amazon utilizzando uno dei miei link o se preferite tramite il codice referrer marcosbox meno 21 trovate sulla pagina su marcosbox trovate anche il rimando al mio codice referrer dicevo se acquistate su amazon sfruttando quel codice referrer link referrer una piccola parte del diciamo del costo mi verrà dato da parte di amazon voi non pagherete nulla però amazon mi darà la percentuale stavo utilizzando un termine dialettale pugliese che sarebbe stato mal interpretato meno male che mi sono bloccato vabbè lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo nella prossima puntata del podcast di marcosbox e buona festa del lavoro a tutti quanti ciao 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 ciao